buongiorno buon avvio di giornata ben trovati tg mattina di oggi giovedì 17 febbraio 2022 san flaviano andiamo subito a vedere le notizie di oggi dai quotidiani la stampa cura e ricerca sulla sla nella rete europea c'è l'ospedale di novara il centro diretto dalla dottoressa mazzini da anni all'avanguardia il riconoscimento come eccellenza scientifica caprezzo al peggio chiuso per neve nessuno pulisce le strade arrivano le proteste presentata passio il tempo della rinascita torna dopo due anni la manifestazione che accompagna la pasqua il vescovo abbiamo messo al centro la speranza la voglia di ritrovarsi con 33 appuntamenti in tutta la diocesi dai pellegrinaggi alla cultura gli eventi da vivere insieme dunque campioni della ricerca riconoscimento al centro specializzato sulla sla al maggiore la promozione nella rete internazionale permetterà nuove cure donne nelle lauree scientifiche il piemonte orientale è settimo nella classifica delle università con il 58 per sul totale degli iscritti la programmazione di novara bersagliata dagli emendamenti 53 sono stati presentati dal pd altri 49 dai 5 stelle lunedì la discussione del dupe in consiglio comunale a novara elena ugazio riconfermata la guida della cisle del piemonte orientale al congresso territoriale la polizia scopre salva due pitbull segregati il proprietario è denunciato successo al villaggio dal mazzia a novara domani alle 10 il funerale ad oleggio di eugenio squillace una vita dedicata agli altri tra politica e volontariato aveva 86 anni trecate cerca i fondi europei per la pista di atletica e corsa contro il tempo il progetto dei lavori da 450 mila euro e poi ex consorzio agrario di oleggio bocciato il piano di recupero dopo il pronunciamento del tar il consiglio votano alla maggio a maggioranza la minoranza si è divisa l'amministrazione non c'è informati bene poi c'è la protesta dei pendolari per i treni affollati e zero controlli sulla linea da novara a ivrea riapre il teatro rosmini a borgomanero dopo due anni di luci spente domani sera con la music art academy e ad a roma ad arona passa il bilancio ma l'opposizione protesta il vice sindaco gusmeroli respinge le accuse di macelleria sociale poi per quanto riguarda l'economia la manutenzione a cameri per i motori degli f 35 è un traguardo per l'italia e le proteste nel vco per la frazione chiusa per neve la protesta dell'abitante mi sento un prigioniero a caprezzo ma il sindaco insiste non c'è un'alternativa omegna in via tito speri i tecnici controllano fognatura e acquedotto dopo le lamentele dei residenti motarone è da rifare la spartizione del mezzo milione con un nuovo accordo tra omegna estresa ma il bando si ferma lo stanziamento del governo per le attività commerciali dopo il cambio di maggioranza i consiglieri votano all'unanimità nella provincia del vco il ritorno del presidente alessandro lana poi il nuovo istituto maggia estresa il via libera entro il 28 aprile intanto si svuota l'edificio da abbattere gli americani salvano i 48 lavoratori arson sisi lo stabilimento di fondotoce è stato acquisito dall'azienda ppg apreglia fashion market punta ai clienti svizzeri manca però il via libera per rilevare l'ex mercatone 1 la procura chiede 4 anni per l'ex ufficiale giudiziario del tribunale di verbani accusato di peculato truffa e falso nella gestione dei conti dell'ufficio la sentenza con il rito abbreviato e attesa per mercoledì 16 marzo a intra la rsa san rocco non trova un gestore ora l'asl ripete la gara sono 50 i posti letto navigazione non soltanto lago la svizzera vuole i fiumi italiani collegamento via acqua dal canton ticino all'adriatico e poi la cultura capolavori in due incontri ci sarà enni paul kinsack al castello e oggi al circolo dei lettori si parla di venezia e collezionisti e invece l'esperta di divisionismo presenterà domani il suo libro miracoli metropolitani al faraggiana con l'umanità di carrozzeria orfeo a novara stasera alle 21 nella sala di corso della vittoria riprende la stagione di teatro contemporaneo daniela grifoni nell'atlante de agostini per gli artisti è una grande artista il gorilla e altre storie da bressens a de andrea gozzano domani alla società operaia poi nuovo libro di maurizio asquini al debutto con la pittrice luisa marangon il dialogo sarà affidato alla professoressa federica mingozzi in via auxilia 4 a novara druogno un pomeriggio tra i ricordi del passato domenica all'incontro a legar e poi corrado tedeschi l'attore stasera alle 21 a villa d'ossola sul palco con mia figlia porto la nostra vita fatta di amore e di contrasti e poi arte teatro e musica all'aperto verbania lancia cinque progetti le iniziative si svolgeranno da marzo in biblioteca poi lo sport il novara si ferma dopo 8 vittorie salvato da una magia di gonzalez quindi termina 1 a 1 con il bra gli azzurri vanno sotto faticano il capitano con un gran tiro da fuori area trova il pari rgt cino invece vince trascinato da longo un altro passo verso la salvezza a 2 a 0 con la lavagnese gozzano trasferta mara si arrende nel finale dopo l'espulsione di bane contro il sestri levante 1 a 0 ganna difende l'imbattibilità negli emirati a caccia del tris ciclismo dopo la squalifica in provenza da domenica c'è il primo evento del world tour poi elisa longo borghini oggi lo solana debutta in spagna nel 2022 voglio regalarmi più successi nelle classiche poi corriere di novara famiglia intossicata dal monossido la madre si era recata al pronto soccorso così si sono salvati tre adulti e tre bambini di nazionalità straniera tutti sottoposti alla camera iperbarica il calcio magia di gonzales pari novara e bra poi il parcheggio selvaggio in centro storico ci sono proteste interrogazione del pd lanzo però risponde controlli e sanzioni se ne fanno ogni giorno per quanto riguarda i lavori di restauro nella chiesa di san giovanni decollato una sorpresa spunta un affresco di notevole importanza storica e artistica andiamo alla stampa nazionale il terremoto dei referendum la consulta da il via libera alle cinque consultazioni su giustizia bocciata quella sulla responsabilità civile amato il no alla cannabis è un quesito sbagliato e si appella al parlamento salvini per le toghe una rivoluzione la russia ritira il suo esercito ma chi e ve dice è un bluff nessuno si fida la scala boicotta la tournée in egitto vogliamo la verità su regeni e poi due belle storie sofia va di moda su vog la modella con la sindrome di down e antonella salas nunez vela suona la vita la 14enne torinese più forte dei bulli e poi l'inserto i piaceri del gusto con i sapori d'alta quota i locali da non perdere tra alpi al pennino gli chef le ricette i vitigni che sfiorano il cielo corriere della sera giustizia messi cinque referendum salvini esulta da fratelli d'italia sì a metà dubbi del pd conte noi verso il no stop al quesito sulla cannabis e poi fontana che vince ai giochi olimpici medaglia numero 11 della pattinatrice però viene attaccata da un azzurro è un caso quello che vede coinvolta arianna fontana che ha vinto l'argento nei 1500 short track corriere salute se la memoria comincia a tradire dimenticare i nomi non basta a predire un declino mentale e tutto da leggere all'interno dell'inserto del corriere della sera italia oggi salvo il vecchio patent box entro il 28 febbraio i contribuenti potranno chiedere di aderire al vecchio regime presentando una dichiarazione tardiva pubblicato il provvedimento delle entrate poi il sole 24 ore i referendum i titoli di stato corrono i tassi il btp arriva al 2 per cento e statali con le buste paga 2022 arrivano fino a 10.500 euro in più nel pubblico impiego si parla dei dipendenti dei ministeri verrebbe da dire finiscono sempre lì i soldi viacom per la sfida netflix rispolvera il logo paramount è corsa allo streaming ma il titolo crolla e in fine uno sguardo al meteo previsto per il nostro territorio avremo cielo sereno quest'oggi e domani poco nuvoloso con peggioramento in serata con possibili piogge le temperature minime passeranno dai 2 gradi di oggi ai 7 gradi di domani per lo meno di questa notte e i 17 gradi di massima di oggi invece passeranno ai 14 gradi di domani è tutto vi auguro una buona giornata arrivederci